Di sfighe ce ne sono tante, adesso ce n'è una in più. L'uomo è di nuovo alle prese con il cerchiolino rosso. Questa volta si è fatto prudente. Guardate attentamente le arance. Ma soprattutto, guardate la menso. Seguiamo insieme la sequenza drammatica. Ma dove sta a trovare questo? 38 secondi fa, quest'uomo tagliava le carote. Grazie. 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 Grazie.